A disposizione del numero 13, il numero 13, il numero 14, Cassellano, il numero 15, Barba, il numero 16, Carisetti, il numero 14, Macaia, il numero 28, Forza Poi, il numero 19, Guardi, il numero 20, Vito, il numero 21, Avanzini. A disposizione del numero 12, Carisetti, il numero 18, il numero 14, Carisetti, il numero 4, Cassellano, il numero 15, Macaia, il numero 16, Carisetti, il numero 19, Garbo, Parchi, il numero 15, Patrisetti, il numero 19, Guardi, il numero 12, Carisetti, il numero 14, Carisetti, il numero 18, danni forze. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 , 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 a tutti.